Scuola di danza, il nuovo lago dei cigni. Un ampio ventaglio di corsi dove la didattica è mirata a fornire una forte base tecnica per poter individuare il percorso più adatto alle vostre esigenze o aspirazioni. Le discipline proposte sono indirizzate a qualsiasi livello di preparazione. Propedeutica alla danza per bambini dai 3 anni in su. Gioco danza. Danza classica per ragazzi ed adulti. Danza contemporanea. Videodance. La nostra scuola di danza nasce con l'intento di creare e divulgare un'autentica cultura della danza con una particolare cura per la qualità dell'insegnamento. Scuola di danza, il nuovo lago dei cigni. Della maestra Floriana Greco. Via Abramo Lincoln, 172, Pachini.